...fai intuire che ogni bellezza della terra è appena un ruvido seme destinato a fiorire nelle serre di Valle. Vediamo l'incorruzione di Marino, dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Augusto. E' il suo primo capo una corra di dodici stelle. E' il profuto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, viene di grazia che il Signore è con te. Tu sei credente per noi. E' il tuo libro del mondo di Dio. E' il tuo libro del Mio. E' il tuo libro del Mio. E' il tuo libro dell'Apocalisse di San Giovanni. E' il tuo libro di differenze di nella terra del Mio. E' il tuo libro del Mondiale. E' il tuo libro di Dio. A vostre ustente, o cremens, o mia, o urcis, virgo maris. A vostre ustente, o mia, o urcis, virgo maris. A vostre ustente, o mia, o urcis, virgo maris. A vostre ustente, o mia, o urcis, virgo maris. A vostre ustente, o mia, o urcis, virgo maris. Santa Maria del Manco, che vuole un po' dietro di crepe, cipciano, 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 cipciano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.